Tra pochi giorni ci saranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America e già ci sono i sondaggi che si stanno occupando di disvelare chi sarà l'eventuale vincitore. In particolare a contendersi la poltrona è da una parte l'attuale presidente degli Stati Uniti ossia Donald Trump dall'altra lo sfidante ossia Joe Biden e pensate che i sondaggi parlano chiaro infatti secondo e ripeto secondo i sondaggi americani il presidente degli Stati Uniti d'America che verrà sarà Joe Biden quindi il simpatico Donald Trump verrà sconfitto sarà in particolare ripeto di nuovo Joe Biden a essere il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America questo secondo i sondaggi non sono io a dirlo sono i sondaggi che parlano chiaro e che informano il pubblico americano non solo del fatto che sarà Joe Biden a diventare a essere il nuovo presidente che siederà alla White House alla Casa Bianca. Vi ringrazio in primis per la visione in secondis per l'ascolto cari utenti di YouTube iscrivetevi se viva la commentata e un saluto cari d'arriano ronana a Twitteria.